Il secondo giorno di riprese per Pieraccioni che racconta la scelta di Prato per il suo nuovo film e poi scherza su Ceccherini. A San Giusto nasce il centro di prevenzione, educazione alla salute, orientamento ed ascolto. A Ciprato prende parco la trattativa di cessione della società laniera e imprenditori esteri. Pubblico delle grandi occasioni per la Notte delle Stelle, l'evento targato a TV Prato è dedicato al calcio giovanile e dilettanti. Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Seconda giornata di riprese al PIN per Sessonrose, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni che a nostri microfoni racconta la scelta di girare anche a Prato. Sentiamo. Prato ha degli scorci, un centro storico importante che non è molto filmato, non è molto visitato dal cinema. E invece è un arricchimento per il film notevole. Così Leonardo Pieraccioni racconta la scelta di girare a Prato alcune scene del suo nuovo film. Oggi al PIN si è svolta la seconda giornata delle riprese per Sessonrose, tanti i pretesi che sono andati a curiosare sul set in Piazza Ciardi. Pieraccioni non ha negato foto, strette di mano e battute. Anche sull'auto d'epoca, una Fiat 850 Special del 1967 che sarà usata in alcune scene. Tra gli attori impegnati sul set a Prato, Gabriella Pession e Alessandro Paci. L'ha chiamato per questo ruolo a Prato? Guarda, in realtà l'ho chiamato io e gli ho detto oh, vieni via, fammi fare una parte, ho bisogno, io ho tanto bisogno, capito? E lui mi ha detto va bene, gli ho fatto pena, me l'ha fatta fare. A parte di un bidello abbiamo saputo? Un bidello, il bidello che in realtà poi non sarebbe più bidello, sarebbe l'uscere, però io lo chiamo più bidello, bravo, ha detto bene. E ai nostri microfoni Pieraccioni anticipa alcuni spunti legati alla trama del film. Abbiamo saputo che c'è il tema della tecnologia, c'è il tema delle ex fidanzate che ricompaiono, quale delle due è più insidiosa? Insieme alle morroidi, diciamo, mi si fa su questa battuta non certo scicchissima, sono due cose altrettanto insidiose. Diciamo che è un percorso che questo mio personaggio Leonardo Giustini fa per richiesta di una figlia in piena tempesta ormonale come sono le figliuole a 15 anni, per cui manda questo messaggio, sono cambiato, riproviamoci, a tutte e dieci le mie ex fidanzate e quattro scellerate risponderanno. E sarà anche ripercorrere con queste quattro i motivi per cui ci si lascia come coppia. Questo credo, perché ti ripeto, io non ho letto nulla, non voglio sapere nulla, voglio fare questo film a mia insaputa. Massimo Ceccherini? Ceccherini è impossibile da tirare via dal suo divano di casa perché ribalta, ha una pancia che sembra Pavarotti negli anni Ottanta, per cui abbiamo provato dei paranchi a farlo salire, però ci rimbalzava e l'abbiamo perso. Per cui telefona, minaccia tutti i giorni di venire a trovarci sul set, ma noi abbiamo dei cecchini che ci ha dato Trump, appena si avvicina gli si spara a vista. Tra domani e l'inizio della prossima settimana ci saranno altre location pratesi, tra cui un appartamento in piazza mercatale, il tennis club di Via Firenze e il giardino Buonamici. Nelle scene in Mugello reciterà anche l'attore pratese Francesco Ciampi, che negli scorsi mesi ha collaborato con la produzione nella scelta delle location nella nostra città. Se son rose inizia a Prato, quindi? Fioriranno, sicuramente. No, che non dire così. No, ma che è? Non si dice mai. Se son rose, punto. Basta. Il nuovo titolo del film è di Leonardo Pedacioni, allora Alessandro Calosci, un grandissimo. Noi ci conosciamo dai tempi dei laureati. Madonna ragazzi. Tanta roba, eh? Tanta roba. Più di vent'anni. Tant'anni. Però il vero, il vero roso è lui. Lui è il rosone. Il rosone, il rosone. Infatti il rosone del Duomo. Eccolo qua. Ragazzi si va a girare. Ciao ragazzi. E passiamo adesso alla politica. Il neosindaco di Poggia Cagliano, Francesco Puggelli, eletto con oltre il 59% dei voti, ha anticipato a TV Prato i primi interventi in agenda. Scuola e nuova sede dei vigili urbani, le priorità d'inizio mandato indicate da Puggelli nel corso dell'intervista andata in onda nel telegiornale di ieri sera. Ascoltiamo. Abbiamo alcune urgenze, l'avevo già detto in campagna elettorale, che sarà quella di garantire ai nostri ragazzi per settembre delle nuove aule alla scuola primaria. Quindi questo è il primo compito. Io stamattina ho già incontrato gli uffici e ho già messo a lavorare su questa cosa. Questo è il primo progetto. Il secondo è quello della nuova sede dei vigili urbani, transitoria, che sarà il primo piano della misericordia di Poggio. E il terzo obiettivo, anche questo l'avevo promesso, perché ce n'era bisogno, sarà il rifacimento della copertura del pallone delle scuole medie. Poi il progetto, diciamo, un po' meno visibile, quindi forse i foggesi di questo se ne renderanno poco conto in questi primi mesi, ma che sarà determinante per il futuro, sarà la riorganizzazione della macchina comunale. Perché se la macchina funziona, allora potremo in cinque anni raggiungere anche gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati. Ma se non si mette mano alla macchina è difficile riuscire ad andare lontano. Al via la sperimentazione del centro di prevenzione ed educazione alla salute, orientamento ed ascolto. La firma del protocollo vede impegnati Comune, Società della Salute ed Auser. Vediamo quindi di che cosa si tratta. È stato firmato da Comune di Prato, Associazione Auser e Società della Salute di Prato, il protocollo d'intesa per l'avvio di una sperimentazione sul territorio di un centro di prevenzione, educazione alla salute, orientamento ed ascolto. Il protocollo stabilisce che Auser, avvalendosi dei propri volontari o professionalità esterne, individuate per specifici ruoli, in questo caso al momento due medici e due infermieri, utilizzi uno spazio all'interno del centro sociale Ventrone di San Giusto per svolgere due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12, attività di orientamento ed indirizzo agli stili di vita, all'alimentazione, alle malattie croniche, alle ludopatie e alle dipendenze. È un passo importante, soprattutto per tutti coloro che frequentano qui il centro, che è assolutamente frequentato nella zona di San Giusto, e quindi dobbiamo ringraziamento a tutti i volontari dell'Auser per questa iniziativa che si avvolge il martedì e il giovedì durante la mattinata, e ci saranno incontri con le persone che frequentano il centro, e lo scopo maggiore è quello di lavorare per quanto riguarda gli stili di vita, la prevenzione e quant'altro, per quanto riguarda sempre l'attività di prevenzione socio-sanitaria. E parliamo adesso della cessione dell'AC Prato, la pista che porta all'estero si fa sempre più calda e particolari nel servizio di Massimiliano Masi. Arrivano le prime conferme. Il nuovo Prato parlerà inglese. Prendono corpo le trattative per la cessione del Prato ad imprenditori esteri. In pole position un'accordata italo-canadese. A confermarlo durante l'evento di TV Prato la Notte delle Stelle, il sindaco Matteo Biffoni. Siamo a un punto in cui si stringerà nei prossimi giorni su quelle che sono le offerte, a nostro modo di vedere, e sulle carte ci sono arrivate più interessanti. Devo dire, l'ho detto, lo dico stasera, quello che ho già detto nelle scorse giornate, ho trovato un interesse maggiore di quello che mi sarei aspettato. Il Prato piace, insomma. Il Prato piace. Possiamo andare un po' di più in un dato specifico? Sarà un Prato che parla inglese, quello del futuro? Dobbiamo cominciare a studiare questa lingua? Può darsi che sia un Prato che parli straniero, ma diciamo Prato... Questa sarebbe una notizia, sindaco. Prato è una città del mondo e quindi non ha paura di nulla, non è che ci mettiamo problemi. Diciamo che alcune delle offerte, delle valutazioni, degli approfondimenti che in questo momento sono in corso provengono anche da società che fanno riferimento a capitali che stanno fuori dal nostro Paese. Vedremo se all'esito di questi approfondimenti arriverà l'offerta giusta. E chiudiamo, poi salutiamo il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Il Prato a Pratesi no. Il Prato a Pratesi se lo vogliono è a disposizione. Nel senso che noi ne siamo gente che non è che si fa grossi problemi. Però offerte vere e proprie no. Offerte vere e proprie non ne sono arrivate. Devo dire che ci sono sempre persone di Prato che stanno dentro al meccanismo e al percorso di acquisizione della società, però direttamente offerte da imprenditori o da soggetti pratesi o da corate pratesi formalmente non ce ne sono. Ho capito. Oh yes, insomma. Dai, chiediamola così. Nel fine settimana le trattative entreranno nel vivo e sono attesi sviluppi. Siamo davvero ad un passo dalla svolta. Grande successo per la Notte delle Stelle. L'evento promosso da TV Prato per celebrare la stagione appena conclusa del calcio dilettante e giovanile toscano e per assegnare anche riconoscimenti ai migliori in campo. Vediamo. È stato un successo senza precedenti. Pubblico delle grandi occasioni. Salle 20 del Museo Pecci Sold Out per la Notte delle Stelle. L'evento targato TV Prato in collaborazione con il Quotidiano La Nazione e l'almanacco del calcio toscano e il sito campionando.it. La manifestazione ha voluto premiare i migliori calciatori e dirigenti toscani per il calcio giovanile dilettanti. La serata condotta dal nostro Massimiliano Masi con la collaborazione di Diletta Bitorzoli ha visto la presenza del sindaco di Prato Matteo Biffoni e delle massime cariche federali della Federazione Italiana Gioco Calcio con il presidente Paolo Mangini, il vice Massimo Teiti e il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Vittorio Bini. È stata una vera e propria parata di stelle. Tra i preami più importanti, quello che antibanca la carriera per il giocatore del tavolo a Leonardo Carletti, mentre il premio Assiteca Futuro Assicurato è andato a Francesco Renzi dell'Africo, figlio dell'ex premier Matteo, in procinto di passare al Genoa. Per il calcio dilettanti, il premio TV Prato è andato al Viaccia, riconoscimento a sorpresa anche per il direttore di TV Prato Gianni Rossi, mentre quello dell'almanacco del calcio toscano è andato a Matteo e Massimo Innocenti dell'Audax Rufina. Panchina d'oro di eccellenza a Fabio Ercolino del San Gimignano. Insomma, tanti premi in una serata che ha confermato la nostra emittente come punto di riferimento a livello mediatico toscano per il calcio giovanile e dilettanti. In conclusione, il premio al gol più bello a Leonardo Manganiello della Zenit, una rovesciata per chiudere in bellezza. E passiamo adesso alla cultura. Nei principali musei della città, l'estate sarà anche a misura di famiglia. Spettacoli per bambini aperitivi alla Campolmi e molto oltre ancora nella rassegna Prato Musei. Sarà un'estate all'insegna del divertimento, quella che i musei della rete Prato Musei hanno programmato per i mesi di giugno e luglio. Museo del Tessuto, Museo dell'Opera del Duomo, Museo di Palazzo Pretoria e Centro Pecci hanno ideato un calendario di attività rivolto soprattutto alle famiglie con bambini. Ma ci saranno anche numerose occasioni per gli adulti, con appuntamenti all'insegna dell'arte, della musica e del buon gusto e molte occasioni per visitare i musei. Il Museo del Tessuto, il 14 giugno, apre la rassegna estiva con una programmazione nata dalla sinergia con Fondazione Opera Santa Rita e Cooperativa Opera 22, il nuovo soggetto gestore della caffetteria del Polo Campolmi. Il locale si chiamerà Campolmi Busse in onore del grande busse inglese rosso a due piani che caratterizza il piazzale dell'area. Si parte alle 17.30 con un'iniziativa al museo che sono i pupi di stack, riservata a bambini e famiglie e poi si prosegue con delle iniziative del Zappa e Brigata Ballerini organizzate dalla caffetteria. Tutto questo accompagnato dagli aperitivi. In aggiunta avremo tutti i giovedì di giugno e di luglio il Museo del Tessuto aperto dalle 17 alle 21 in apertura gratuita. Sono impiegati in questa attività tanti ragazzi che provengono dal Santa Rita e che quindi trovano facendo queste attività un luogo e un ambito di coinvolgimento, di integrazione, di inclusione. Dopo l'estate uscirà il bando per la gestione dei servizi museali dei quattro musei in questione. La progettazione, l'identità di questi luoghi ovviamente rimarrà in capo tanto al Centro Picci quanto al Palazzo Vettorio del Museo del Tessuto dell'Opera del Duomo ma tutti i servizi di contorno peraltro molto importanti saranno affidati ad un bando unico. È la prima volta che l'amministrazione comunale fa una scelta di questo genere e crediamo vada nella direzione giusta per integrare ancora di più di quanto già non sia il sistema museale della Prato Musei. Ed è il momento della Marcord vediamo quindi insieme un estratto della nuova puntata di Tech & Cherry in onda alle 14 subito dopo il nostro telegiornale. Vediamo. Eccoci. Allora, con questa maschera e... Faccio. Vai, 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 vai. Riccatevi che tornate a rifare in rosso. Insomma, Nel eh... Insomma, ho tanto tempo libero o... Fuori! Azione! Fuori! Scusi, ma lei ce l'ha il permesso per la zona blu? Io essere tedesca sbrachidocce! Un'altra puntata quindi da non perdere nel momento adesso delle previsioni del tempo ci colleghiamo con la sala meteo del Consorzio Lamma per tutti gli aggiornamenti del caso. A voi. Buongiorno e ben trovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma come possiamo apprezzare dalle immagini che ci giungono dal satellite l'alta pressione sul Mediterraneo centrale è in fase di cedimento sotto la spinta di una perturbazione atlantica attualmente presente sul Golfo di Biscaglia. Andremo pertanto incontro a altri due o tre giorni di instabilità mentre sembra poi possibile la rimonta dell'alta pressione in modo un po' più consistente e duraturo. Ma andiamo per gradi andiamo a vedere il proseguo della giornata di oggi aumenteranno le nubi su gran parte del territorio regionale qualche rovescio atteso a carattere sparso soprattutto sulle zone centro-meridionali e sull'appennino di nord-ovest aumenteranno i venti dai quadranti occidentali con mari mossi o molto mossi a nord dell'isola d'Elba caleranno anche le temperature di 4-5 gradi rispetto a ieri massime fino a 26-28 gradi nelle pianure dell'interno. Per la giornata di domani giornata ancora più instabile inizialmente saranno possibili dei rovesci e temporali sparsi lungo la fascia costiera aumenterà ulteriormente l'instabilità tra la tarda mattinata e il pomeriggio con fenomeni che nel corso delle ore pomeridiane saranno più frequenti e probabili sulle zone interne della regione ancora rovesci e temporali localmente anche di forte intensità venti fino a moderati dai quadranti occidentali ulteriore calo delle temperature domani non oltre i 24-25 gradi anche 2-3 gradi sotto le medie del periodo è tutto vi ringrazio per l'attenzione e questa era l'ultima notizia al telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito arrivederci aassi Grazie a tutti.